Buongiorno a tutti, c'è una conferenza stessa della signora Sanzi, la signora è buona della genuaglia fatta dai più grandi pesoni a città, non disturbate il nostro diritto della conferenza della stampa, fateci parlare, non siete voi, fateci parlare, siamo a noi, la prossima Sanzi, lasciateci parlare, lasciateci parlare, accettate le domande, accettate le domande voi, non avevamo niente da parlare, cosa avete da dire se c'era qui? Non conosce il territorio, non siete neanche di Salina, qual è l'attentativa a questa centrale? Qual è l'attentativa? Qual è l'attentativa? Qual è l'attentativa? Qual è l'attentativa? Sono disoccupati! Qual è l'attentativa senza stimolazione? Va bene, questa è l'educazione del Sianca. Lascia perdere l'educazione. Le accettate le domande o ce le dobbiamo andare? No, voi potete andare, sono dei giornalistici. Voi siamo atto e ce ne siamo, però accettate le domande, fascisti, siete dei fascisti, sono dei fascisti e dico anche di più, mafiosi politici.